Ci troviamo in un appartamento in Vico Giannini, posto al quarto piano di un palazzo storico di 80 metri quadrati circa. L'appartamento è così composto. Porta blindata, entriamo direttamente con un ingresso in corridoio dove sono presenti tre camere da letto. Andiamo a vederle. La prima camera, facciamo una panoramica, l'appartamento si presenta in buono stato. Attualmente è abitato, quindi è locato e sarà libero al momento della vendita. Affaccia su Vico Giannini. Le finestre sono già in PVC doppio vetro. Proseguiamo. Questa è la seconda camera. Sono delle camere belle, spaziose, ampie. L'appartamento è termo autonomo, con basse spese di amministrazione. Questa è la seconda camera, addirittura con doppie finestre. Questa è molto ampia. Facciamo una rapida panoramica. Da questa parte troviamo un bagno, col box doccia. Proseguiamo. Questo è un bel grande disimpegno che si può utilizzare come soggiornino. Le pareti presenti in casa sono delle tramezze, quindi si possono attuare anche diverse modifiche. Da questa parte c'è una comoda dispensa. E' una cucina abitabile. Molto ampia. Guardiamo l'affaccio. E' un piano molto alto. Quindi affacciandoci troviamo da questa parte verso Piazzetta San Pancrazio. Molto luminoso. Da questa parte siamo verso zona Expo Portantico Aquario. Rifacciamo un'altra breve panoramica. E' un appartamento ottimo da investimento. Comodo. Per la zona dell'Expo. Del centro storico. Quindi come affitto turistico. Oppure per trasfertisti. Ripercorriamo. Prima camera. Bagno. Altra camera da letto. Terza camera da letto. L'appartamento è terminato. Per ulteriori informazioni. Chiamare l'ufficio. Per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni.